Mi giuro il favotetnico, quindi l'incidente in galleria dove? Particolare questa è una procedura che curerà il ROS insieme al dirigente del ferroietro stava tornando a decidere su quali binari e su qualsiasi diretti. In comunicazione faremo un intervento sia da una volta o con un'altra. La richiesta della politazione di sicurezza è già stata. Sì, perché chiama il funzionario di guardia avanti? 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 Che è un'altra parte? Adesso è un'altra parte? Grazie a tutti.